Posta sotto sequestro dalle fiamme gialle di Vibo Valencia una somma di denaro pari a 212.000 euro a carico di 28 persone che percepivano il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto. Tra loro, secondo quanto rifeniscono i finanzieri del Comando Provinciale Vibonese, ci sono esponenti di spicco ed affiliati delle cosche egemoni sul territorio dell'Andrangheta, già coinvolti nelle note operazioni anticrimine denominate Costa Pulita, Ossessione, Cerbero e Rinascita Scott. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal GIP di Vibo Valencia su richiesta del Procuratore della Repubblica Camillo Falvo. Gli accertamenti di polizia giudiziaria svolti nell'ultimo periodo, in particolare dalla tenenza di Tropea della Guardia di Finanza, avevano già consentito tra l'altro di segnalare all'autorità giudiziaria un gruppo di soggetti che in prima persona o attraverso i loro familiari avevano ottenuto dall'Inps il reddito di cittadinanza, omettendo di dichiarare di essere sottoposti a misure cautelari personali o di essere stati condannati per vari reati, tra cui Associazione per delinquere di stampo mafioso.